Regione Toscana, il consiglio regionale. Il consiglio regionale della Toscana arriva a metà legislatura e nell'ultima seduta si è svolto l'atto del rinnovo dell'ufficio di presidenza, con Antonio Mazzeo, rieletto presidente dell'Assemblea legislativa della Toscana. Il presidente uscente è stato confermato con ben 36 voti su 40 partecipanti. Nelle sue prime parole, Mazzeo ha ringraziato tutti i gruppi del consiglio regionale per la fiducia accordata e ha ribadito il suo impegno per essere il presidente di tutta l'Assemblea, garantendo alla maggioranza di portare avanti gli atti di governo e alle minoranze di esprimere sempre la loro voce. Non è mancata anche l'indicazione sulla trasparenza del lavoro svolto in consiglio regionale e perché il consiglio diventi sempre di più la casa dei Toscani dove costruire il futuro della Regione. Un forte carico di responsabilità quando l'Assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo, con serietà, con impegno, con rigore, con passione insieme a tutti gli altri colleghi dell'ufficio di presidenza che ringrazio. Noi davanti a noi abbiamo due anni e mezzo ancora molto complicati, usciamo dalla terribile pandemia, i primi mesi difficili portati avanti da tutti con grande serietà, lo scoppio della guerra con tutto quello che ha significato sicuramente perché le nostre coscienze sono state scosse ma anche per quello che poi ha significato nella vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini della nostra Regione. La Toscana è sempre stata una terra d'accoglienza, una terra aperta, inclusiva e vuole continuare ad esserlo. Io mi sono preso un compito che è quello di cercare di portare nei prossimi due anni questa Assemblea legislativa a essere sempre più la casa delle Toscane e dei Toscani. Un luogo aperto in cui la maggioranza possa perseguire la sua giusta volontà di portare a casa le leggi che ritiene più giuste per offrire servizi migliori ai cittadini e ai cittadini toscane e la minoranza abbia il suo spazio di critica e anche di opposizione dura, aspra quando serve. Io sarò garante di questo, voglio essere come ho fatto fino ad oggi e spero di poter fare meglio il Presidente di tutte le Toscane e di tutti i Toscani. Vi assicuro che oggi dopo questa votazione ero ancora più emozionato perché quando ci si conosce poco si può dare fiducia, così anche a scatola vuota. Dopo due anni e mezzo di lavoro il risultato di oggi apre anche come dire un significato, ha un significato quello di aver creato con tutte le forze politiche un rapporto vero, schietto, leale, sincero perché poi alla fine l'obiettivo di tutti è offrire ai cittadini e ai cittadini della Toscana servizi migliori. Non so se sempre siamo stati all'altezza ma so che continueremo ad andare avanti in questa direzione. La votazione sul Presidente del Consiglio regionale è stato il primo atto delle operazioni di voto per il rinnovo dell'ufficio di Presidenza, previsto dal regolamento del Consiglio al metà legislatura. La proposta di riconfermare Mazzeo alla Presidenza è stata avanzata in aula dal Partito Democratico con il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. Hanno annunciato poi il voto favorevole tutti i gruppi politici attraverso i loro consiglieri. Come abbiamo visto dalla votazione noi abbiamo riproposto il Presidente Mazzeo per ricoprire la carica in continuità anche per la seconda parte della legislatura così per tutto il pacchetto dell'ufficio di Presidenza. È un riconoscimento alla competenza, all'equilibrio che è stato utilizzato per condurre i lavori dell'Aula e noi crediamo che questo continuerà e probabilmente si rafforzerà anche in futuro. Abbiamo anche raccomandato di recuperare il regolamento che deve avere dei miglioramenti per poter rendere i lavori dell'Aula più efficienti e più efficaci. E siamo certi che questo lavoro verrà fatto coinvolgendo tutto il Consiglio. Il segnale è importante che consolida una maggioranza solida a livello regionale. Ringrazio le colleghe e i colleghi del Partito Democratico per la fiducia che mi hanno concesso. Ringrazio il collega Sguanci. Si consolida la maggioranza di centrosinistra nel governo della nostra regione. Si consolida e si rafforza il governo Gianni. Nel contempo è la mia figura di carattere istituzionale a garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani. Quindi la capacità di incidere nei processi dell'Aula, nella presidenza dell'Aula, in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio, con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, presidente, anche lui riconfermato. E nel contempo, ovviamente, conferma del mio ruolo in questo momento anche di guida politica d'Italia Viva, a livello regionale, nel Consiglio regionale, a sostegno ovviamente di una maggioranza che si consolida con questo voto, che compatta quindi questa nostra coalizione. Sicuramente con enorme soddisfazione e con un onore grandissimo rappresentare il Consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo. Lo facciamo in maniera, penso, il più istituzionale possibile, perché non è quello il luogo della contesa politica. Lagone politico ci deve essere, anche duro, anche rigido, sicuramente in certi momenti radicale, ma questo deve essere fatto nelle commissioni dove si discutono le proposte di legge e le linee di governo della regione toscana. Sicuramente nell'aula del Consiglio regionale l'ufficio di presidenza è un altro ambito nel quale dobbiamo, invece, decidere le regole che valgono per tutti e in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes, anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche e avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani. Con spirito di responsabilità e di servizio, far parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana è un grande onore, ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno. Siamo al servizio dei toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale, facendo gioco di squadra quando va fatto. In effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per proposte unitarie che sono state poi approvate dall'aula. Mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio e al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore e con la massima trasparenza. È una grande responsabilità, ma anche una grande gioia. Io sono onorato di far parte dell'ufficio di presidenza ormai dal dicembre del 2017, sono diversi anni e ho cercato in questo periodo di fare l'interesse di tutti i toscani, cosa dovuta e al tempo stesso quanto mai gratificante. Tanto un ringraziamento va all'ufficio di presidenza uscito e al nuovo ufficio di presidenza appena entrato. Insieme al collega Gazzetti andiamo a ricoprire questo nuovo incarico che c'era già nella ottava legislatura, poi con la modifica del numero dei consiglieri fu tolto. Abbiamo individuato questa modalità di lavoro insieme, cioè l'allargamento dell'ufficio di presidenza, non perché vi fosse soltanto un'esigenza di carattere numerico, ma perché ci siamo resi conto che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza corrispondeva ad un'esigenza di snellimento del lavoro, corrispondeva insieme anche all'istituzione della figura del sottosegretario ad un rapporto diverso fra ufficio di presidenza giunta e lavoro del Consiglio Giugnale. Non scordiamoci mai che noi viviamo una fase in cui c'è stato un taglio drastico del numero dei parlamentari. Pensiamo a quanto ha inciso sulla rappresentanza delle elettrici e degli elettori toscani, a quanto è inciso nel rapporto fra cittadini ed eletti. Ecco, noi pensiamo che nell'allargamento dell'ufficio di presidenza non solo c'è una rappresentanza ulteriore con l'ingresso di Forza Italia, delle forze politiche in quell'ufficio lì, ma c'è anche un modo diverso di lavorare. Usciamo da due anni difficili che sono quelli della pandemia, ci portiamo dietro alcune cose positive e alcune cose negative. Io sono convinto che con il collega Gazzetti che ha preseduto la Commissione Europa porteremo per esempio più Europa all'interno dell'ufficio di presidenza, il che significa avere anche un rapporto e una rappresentanza diretta dentro il bilancio. Abbiamo bisogno di lavorare sempre di più. Io porterò le istanze di tutti dentro l'ufficio di presidenza, porterò la mia esperienza professionale, io continuo ancora a lavorare pur facendo il consiglio regionale, è il rapporto con le imprese, penso all'internazionalizzazione, penso per esempio alle risorse che dobbiamo mettere per i poliferistici e per la possibilità per le nostre imprese di avere stand. Pensiamo al Vinitaly, perché non pensare di avere non uno stand toscana dove ci sono le aziende toscane dentro, ma uno stand della regione toscana. Devo dire che il clima che si è riscontrato in questa importantissima seduta, la seduta che a metà legislatura conferma i ruoli nel consiglio regionale, in fondo è anche una valutazione d'apprezzamento per il lavoro della Giunta e conferma come l'equilibrio che ci siamo venuti a creare fra Giunta e Consiglio ha portato a far sì che sono state confermate quelle figure di riferimento non solo il Presidente Mazzeo ma anche il Vicepresidente Scaramelli che è espressione di una collegialità di lavoro nella maggioranza che vede unita da un lato la forza del Partito Democratico, dall'altra di Italia Viva, dall'altra ancora della sinistra e contemporaneamente un'armonia di lavoro nel reciproco rispetto dei ruoli fra maggioranza ed opposizione e questo dà una spinta importante anche al lavoro della Giunta. Il Consiglio regionale premia con una targa l'aritino Team Rossi per i risultati conseguiti in ambito sportivo. Il Team, che da tanti anni è uno dei protagonisti internazionali delle gare nel deserto africano, è per tutti un esempio di sport e fair play. Adesso ho appena ricevuto il riconoscimento dalla Regione per un team speciale, questo lo dicono loro. Io mi sento dentro una forte passione che cavalco da quasi 30 anni e sinceramente riuscire ad arrivare a un riconoscimento di questo livello dalla propria Regione mi emoziona quanto mi inorgoglisce. Per me pensare che la mia passione nata tanti anni fa potesse raggiungere un riconoscimento anche regionale non ci avrei mai pensato. Devo dire che è veramente importante e fa ben sorridere, fa ben sperare come le modifiche che abbiamo apportato nel nostro veicolo siamo riusciti ad andare il nostro fuoristrada anche con l'idrogeno e sai che questo nuovo riconoscimento possa portare a nuove occasioni, a nuove gare e che ci porti tanta fortuna. Lo speriamo vivamente. Posso dire con obiettività che negli ultimi tempi non sono stato semplicemente vicino al team Rossi 4x4, sono stato praticamente appiccicato come si suole dire perché sono stato presente alla presentazione, alla cena per il ringraziamento. Alla cena per il ringraziamento ho pensato di fare questo perché se c'è qualcuno che conosce molto bene la determinazione, la tenace e la passione che ha portato il team Rossi 4x4 a vincere, a tronfare la categoria Rossi 4x4 nel cartarelli ultimo sono io e per questo ho voluto fortemente questa iniziativa e ringrazio tutto l'ufficio di presidenza che l'ha accolta. Come è stato detto dall'amministrazione comunale di Arezzo è un orgoglio aretino. In questa sede lasciatemi dire che è un orgoglio toscano anche perché riesce veramente a coniugare la grandezza delle nostre eccellenze con l'innovazione, con l'alimentazione ibrida che è combinata anche con l'idrogeno, apre anche a nuove prospettive. Vuol dire che Arezzo e la Toscana sono innovativi e sanno stare sul pezzo e questo è un bel segnale che diamo a tutti i toscani. Perché ha portato in alto il nome della Toscana nel mondo. Il team Rossi 4x4 è una di quelle eccellenze della nostra terra di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi. Passione, impegno, dedizione, 30 anni di lavoro per ottenere grandi risultati come gli ultimi appena arrivati. Il segno che davvero sul nostro territorio ci sono qualità e competenze che possono rappresentare bene quella che è la Toscana nel mondo. Allora a Stefano Rossi e a tutto il suo team i complimenti più vivi, sinceri da parte del Consiglio regionale, del nome mio personale ma anche da parte del Vice Presidente Marco Casucci che ha voluto fortemente questo premio. Ma è fondamentale investire in innovazione perché o questo vale anche per la politica come per le imprese, si ha la capacità di anticipare il progresso, penso in questo caso al lavoro che è stato fatto sui motori ibridi, oppure il progresso ci porta via e non riusciamo a gestirlo e questo vale per le imprese come vale per la politica. Investire sullo sport è fondamentale perché lo sport è un modo anche per tenere insieme un tessuto sociale che in questi anni difficili della pandemia pian piano si andava sgretolando.